ciao mamma vi ricordate di questo essere questo essere è thomas quindi io farei il titolo di nuovo con thomas parte 2 perché siamo di nuovo con thomas no è stata parte 3 perché il primo video è un video con thomas e poi abbiamo fatto di nuovo con thomas e questo sarebbe di nuovo di nuovo ri di nuovo con thomas io ci ho provato ho detto non facciamo video cringe vabbè quest'oggi siamo nella stessa location diciamo perché è cambiata completamente però un po più evoluti tutti e due vabbè io intanto ho la mia specialized che ve l'ho fatta vedere e lui c'è la sua gt bene allora io farei per prima cosa easy provare a salire le panchine io ci provo perché con la nuova bicicletta non ho ancora fatto niente ma si muove tutta sta roba no veramente si può scendere è il tuo momento bravo bravo ragazzo è così che si fa bene basta aspetta guardate quante millimetri col manubrio non ci entra il suo manubrio allora ragazzi thomas ha proposto che chi reverse mi sembra un trick basic ma onesto diciamo che il reverse sta facendo e da un'altra parte ciao mamma bene allora thomas mi ha sfidato nell'impernato adesso ti butto la coprano in strada sai cosa a che marcia usi come la prima ma io sulla quinta per fare l'impernato più lungo una volta è sortito tipo a un'impernata a togliere il mangiamento e poi ricominciare ad impennare esatto così c'è da considerare che per te è difficile no 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 per te le dimensioni della tua bicicletta è riabituato con una 24 ora sei con una 27 e mezzo direi che c'è stato anche io però cioè io ero con una 26 sono passato a 29 così diciamo che siamo molto confusi a livello ciclistico sono tutte e due via la di velocità non 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 flux ma anche a me la catena a tutti quanti la catena